Amici amici bianconeri, nuovamente bentrovati qui sul canale. Secondo contenuto di giornata, sempre martedì 9 maggio. Bentrovati a tutti. Il contenuto di questa mattina ovviamente è dedito alle motivazioni del collegio di garanzia del CONI. Quelle sostanzialmente motivazioni che ci hanno fatto ripiombare nel baratro, perché è evidente, ormai è conclamato, la volontà della FGC, della Procura, della UEFA, io metterei un po' tutti nel calderone, di non voler far sì che la Juventus nella prossima stagione partecipi alle competizioni europee. E allora io mi domando, alla luce ovviamente di queste motivazioni e di quello che ne conseguirà, perché ormai è cosa un po' raccontata da tutti, ma quello che preoccupa è che questo sentimento popolare, inficiato così tremendamente da alcuni elementi esponenti della stampa, dai quotidiani, dalle televisioni, insomma c'è in una maniera abbastanza unidirezionale questo accanimento nei confronti della Juve. Questo mi porta ovviamente a fare questi ragionamenti che possono a chi ascolta non di fede bianconera, prevalentemente non di fede bianconera, a pensare che sia il classico vittimismo. In realtà ci siamo rifatti un po' ai racconti di chi ha studiato il diritto, di chi ha studiato il diritto sportivo, agli esponenti di diritto sportivo, secondo i quali o molti dei quali la sentenza contenesse delle grandissime incongruenze, fosse frutto di un ragionamento e di reati assolutamente, diciamo, che potevano essere controvertiti dal ricorso presentato dagli avvocati, dai legali della Juventus. Lavoro dei legali che evidentemente è stato scarso o non ritenuto sufficiente, o comunque non in grado di sovvertire la situazione, perché da quanto emerge dalle motivazioni del Collegio di Garanzia, delle CONI, sostanzialmente tutti i punti sono stati rigettati al mittente. Quindi Juventus che esce frantumata nei confronti della FGC, della Procura, del Procuratore federale Giuseppe Chinè. Vedremo, vedremo quel che sarà, vedremo quel che sarà, perché c'è chi ci vocifera che intorno al 24-25 di maggio potremo avere la nuova sentenza della Procura federale, ovviamente riscritta, facendo massima attenzione che nella riscrivere la penalizzazione da combinare alla Juventus non vengano commessi errori, ai quali poi eventualmente ci si potrebbe appellare per l'annullamento. E quindi la mia domanda è quella di tanti di voi che seguono il canale, che sono tifosi della Juventus, anche coloro i quali non seguono il canale, che magari avessero voglia di continuare a farlo e quindi iscrivendosi al canale. È questa, ma che cosa dobbiamo aspettarci di qui a fine stagione? La Juventus, o meglio il gruppo squadra, con quali motivazioni scenderà in campo da qui alla fine? Ricordo che mancano due partite di Europa League sicure, l'andata che si disputerà giovedì 11 in casa contro il Siviglia, poi ci sarà il ritorno e ovviamente nel frattempo ci saranno ulteriori quattro giornate di campionato. Sapendo quello che ci stiamo raccontando, quello che emerge dai quotidiani, che molto spesso è coinciso con molta verità, perché non lo sanno magari ancora gli diretti interessati, ma lo sanno prima gli altri, quello che potrebbe capitare alla Juventus. E quindi, sapendo che la Juventus verrà esclusa dalle prossime competizioni europee, quale sarà la motivazione? Quale sarà lo stimolo per questi giocatori che scenderanno in campo, ben sapendo che i loro sforzi, gli sforzi che approfonderanno di qui alla fine, potrebbero tranquillamente essere resi vani? Ci sono due correnti di pensiero. La mia, onestamente, è quella da motivatore. Allora, quando allenavo nel mio piccolo, cercavo appunto di puntare molto sul discorso motivazionale, sulle motivazioni da rendere ai miei giocatori, da poi, ovviamente, riproporle sul campo. E quindi, quello di imbarba a tutti gli attacchi, a tutto il fango gettato sulla Juventus, che non cancellerà il fatto che ormai la Juventus è diffamata, ormai la Juventus ha l'immagine completamente devastata da questa situazione. Io lo posso dire con assoluta serenità, mi trovo in una terra non propriamente amica della Juventus, anche se in questa terra ci sono tanti Juventini, e questo mi rende particolarmente, anzi ulteriormente, orgoglioso di essere bianconero, perché qui in campagna, così sapete dove mi trovo, ci sono tanti Juventini anche a Napoli. E posso raccontarvi tranquillamente che c'è tantissima distorsione della realtà, c'è tantissima disinformazione, la gente si abbevola di ciò che le fa comodo ascoltare, leggere, e non va a fondo alle questioni. E quindi tutti ti raccontano una visione che ormai è quella inclinata e incrinata della Juventus. E quindi la motivazione che potrebbero avere questi ragazzi è sovvertire tutto il fango gettato gli addosso, i punti di penalizzazione che la Procura Federale ancora combinerà ai bianconeri per escludere delle coppe, andando a fare due grandissime prestazioni contro il Siviglia, guadagnarsi la finale e possibilmente accapararsi anche la finale dell'Europa League che la includerebbe inevitabilmente all'interno della prossima Champions League. E allora, a quel punto, la Juventus sarebbe dentro le prossime competizioni europee, la FGC nulla potrebbe più fare, potrebbe eventualmente intervenire soltanto la UEFA. Ma attenzione, ma attenzione perché ora la Juventus si trova dinanzi anche a un bivio, sappiamo che c'è il filone Plus Valencia del quale dobbiamo attendere la nuova rilaborazione della sentenza da parte della Procura Federale, poi ci sarà il filone Stipendi. Ora, si vocifera, e io sono portato a pensare che possa corrispondere al vero che la Juventus su questo secondo filone cercherà di patteggiare. Probabilmente il patteggiamento può essere visto come una tacita missione di colpa, come un pareggio tra l'accusa e la difesa, o eventualmente anche come una resa da parte dell'accusa che si accontenta di ottenere una, diciamo, medio pena per l'accusato. In realtà, per quella che è la situazione che sta vivendo la Juventus oggi, è anche difficile pensare di, anche eventualmente da innocenti, elaborare una tesi difensiva, perché qui siamo dinanzi alla distorsione del diritto sportivo, perché nella giustizia sportiva non esiste giustizia, lo abbiamo visto, e quindi anche da innocente, se la Juventus decidesse di andare avanti e di non patteggiare, potrebbe uscirne con le ossa frantumate. Lo stiamo vedendo con quello che sta accadendo con il discorso plus valenze, plus valenze che, sapete benissimo, non sono regolamentate da nessun ordinamento giuridico in giustizia sportiva, ma che vengono prese in quanto insieme, come un reiterato, come viene raccontato dalle motivazioni, atto volto a stravolgere, sostanzialmente la realtà e quindi amministrativa, e quindi slealtà sportiva. Articolo 4. Detto questo, la Juventus vedremo se propenderà per il patteggiamento, le motivazioni però devono portare i ragazzi, so che è difficilissimo, perché per quanto noi possiamo raccontarcelo qui, comodamente seduti sul divano, dietro uno schermo, chi vive costantemente queste situazioni, è uno stress mentale non indifferente, che toglie energie, toglie motivazioni, toglie anche quella passione, quel pathos che queste partite ultime dovrebbero regalare a chi va in campo. E quindi non è così scontato che queste possono essere motivazioni così forti, da sovvertire qualsiasi tipo di pena che vorranno cominare alla Juventus, è la speranza, perché l'altro filone di pensiero, ovviamente, è quello che tende a raccontare di un gruppo squadra, ormai moralmente a pezzi, non sa più in che cosa credere, ha paura di ciò che potrebbe accadere, e quindi stressato psicofisicamente al cospetto dei residui match che dovrà affrontare. Lo vedremo presto, perché giovedì c'è già un esame molto importante da non fallire, perché non si può fallire, la Juve deve tentare davvero, con tutte le forze, con tutte le ultime risorse residue, di fare due grandissime partite di Europa League, andata e ritorno di semifinale, prendersi la finale e possibilmente portare a casa il trofeo, perché allora a quel punto con la UEFA ci sarebbe un discorso completamente diverso. Se poi decidesse davvero di patteggiare, sarebbe difficile per la UEFA poter pensare di intervenire, per estromettere la Juventus dalla prossima Champions League. Quella, temo, sia l'unica via, e quindi speriamo che queste siano le motivazioni più forti, che prevalgano anche sullo stress mentale che questi ragazzi stanno certamente vivendo. Ditemi la vostra, fino alla fine. Buona serata e forza Juve!